Cittadini ed utenti delle poste esasperati per la lentezza delle operazioni al postamat dell'ufficio postale di via nazionale ad Acquedolci. Già sono state due le petizioni, con quella avviata adesso, per segnalare questa situazione. Le iniziative dei cittadini, dell'amministrazione comunale e anche le segnalazioni della direzione locale delle poste non sono servite a nulla. Noi abbiamo capito che parlare non serve a nulla, nel senso che siamo andati mille volte dalla direttrice. Anche lei, poverina, non so più cosa dice perché dice ho fatto tutte le richieste possibili, immaginabili. Ci risulta che anche il sindaco abbia fatto tutte le richieste possibili, immaginabili, senza ottenere nulla. Non riesco a capire perché tutti i comuni che avevano postamat obsoleti, anche meno del nostro, siano stati cambiati, sostituiti. E noi dobbiamo avere questo pezzo di, non so, per istoria, non so come definirla. Perché è lentissimo, tre minuti sotto il sole, sotto la pioggia, sotto il vento. L'altro giorno un ragazzo ce l'aveva con me perché aveva la mamma al sole. Dico ma lei perde ancora molto tempo, mi ha detto, perché io altrimenti me ne vado a mia mamma al sole. Dico io ho quasi finito, però non sono io che perdo tempo. Lei perderà altrettanto tempo perché è così. Se ci sono 4, 5, 6 persone come capita che si accumulino o cambiamo programma, rimandiamo questa cosa a un altro momento, oppure andiamo a Sant'Agata, oppure vediamo se conviene fare la fila fuori o dentro. Non se ne può più io, cioè non riesco a capire il perché io ho ad esempio il conto corrente, il libretto di risparmio, il fondo pensione, altre cose, tutto alla posta. E vengo trattata come una cittadina di serie C2. Tante persone mi hanno detto io ti metto la firma ma ho cambiato, oppure io ti metto la firma ma tanto cambio, perché ci sentiamo trattati, mistrattati. Lei mi diceva che questa situazione non è una situazione che è da ora ma è una situazione che dura da tempo. C'era da molto tempo prima che arrivasse anche questa direttrice ma sembra irrisolvibile, io non riesco a capire il perché. Abbiamo fatto delle dimostranze alla direttrice, anche l'amministrazione comunale prima di questa era pure a conoscenza di queste cose. Signore miei, questo portello automatico non è che fornisce solamente l'utenza dei clienti postali di Acquedolci, ma qua affluiscono passanti, affluiscono di altri comuni. Questo è un disservizio che si crea soprattutto alla cittadinanza, ma poi al cliente, chi non ci sente sono a livello centrale. Guardi, puoi andare a costatare, col sole, col riflesso, lei non vede niente, deve andare a intuito, a capire quale operazione, quale numero deve digitare. Quanto tempo ci vuole per fare un'operazione qui al Postamat? Sei in linea di Massimo qualche volta magari ha avuto le incontezze di questa situazione? Voglio essere sincero, varia dalle 10 minuti a un quarto d'ora.